33 indagati e 12 depuratori gestiti dalla GESESA sequestrati nell'operazione Cloralix. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del gruppo tutela ambiente di Napoli, coadiuvati dai carabinieri del gruppo forestale di Benevento e dai carabinieri dell'arma beneventana, sono impegnati nel dare esecuzione al decreto a carico degli indagati non solo sanniti. Inquinamento ambientale, frode nelle pubbliche forniture, truffa, favoreggiamento personale, gestione illecita di rifiuti, scarichi di acqua e refluo e senza autorizzazione, abuso d'ufficio e falso sono i reati ipotizzati dalla procura della Repubblica di Benevento. Le indagini, spiega il procuratore Aldo Policastro, hanno documentato la compromissione dei corsi d'acqua dell'area beneventana dovuti agli scarichi dei depuratori di numerosi comuni del territorio sannita ed il conseguente grave inquinamento ambientale. I dipendenti indagati della Gesesa S.p.a., continua ancora Policastro, riuscivano ad influenzare in diversi casi pubblici ufficiali, in particolare alcuni sindaci responsabili di uffici comunali dei comuni della provincia di Benevento, che al fine di evitare sanzioni alla stessa nella gestione dei depuratori, rilasciavano illegittime autorizzazioni in violazione delle prescritte procedure o addirittura ideologicamente false. Il provvedimento ablativo che comporterà la sottrazione alla Gesesa S.p.a. di 12 depuratori è finalizzato alla eliminazione delle cause di malfunzionamento degli impianti e al corretto funzionamento, nonché a ripristinare Chiosa Policastro una situazione di tollerabilità del livello di inquinamento dei fiumi del Beneventano.